Anche tu sei un appassionato dei fiocchi di neve? Bene, questo è il tutorial che fa per te. Ti spiegherò come realizzare questi orecchini a fiocco di neve subito dopo la sigla. Ciao a tutti, io sono Lia, realizzo gioielli dal 2010 e all'interno di questo video ti spiegherò come realizzare questo bellissimo e luminosissimo orecchino a fiocco di neve. Ne ho realizzato già uno, l'altro lo realizzeremo insieme anche se vi spiegherò come realizzare un solo modulo perché sono uguali e semplicemente ho utilizzato tre colori diversi, le rocaille 11.0 bianche, dorate e argento. Mi piace questo trio di colori abbinati a un perno dorato con una pallina e appunto sono pronti gli orecchini per le festività natalizie. Quest'anno sono partita con molto anticipo e devo dire la verità che però i miei orecchini che ho realizzato finora mi piacciono da morire, quindi non vedo l'ora di sfoggiarli durante le feste. Ma a bando alle ciance vi mostro subito quali sono i materiali necessari per realizzare i nostri mini fiocchi di neve. Per realizzare il nostro orecchino fiocco di neve ci servirà un perno per orecchini, io ho scelto questo a pallina, voi potete utilizzare quello che più vi piace. Poi ci serviranno delle perline, io sto utilizzando le rocaille bianche che sono queste qui e il codice è questo, le last red white, opac last red white, queste le avevo prese succa d'oro. Poi utilizzo le rocaille dorate che sono le PF557 della Toho e rocaille argentate che sono le 558 PF558 della Toho. PF sta per permanent finish. Oltre alle rocaille ci serviranno degli anellini, io utilizzo questi qui in acciaio dorato, poi utilizzerò questi componenti qui che vi faccio vedere un po' più da vicino, eccoli qui. Sono degli strass da cucire e hanno la particolarità sul retro di avere questa croce. Toho che è un canale a croce per cucirli, sia su stoffa ma anche all'interno di lavorazioni con le perline. Quindi io utilizzerò questi, se non mi sbaglio questi erano della Swarovski, e sul sito di Perle Senko si chiamavano strass a cudr, anche se adesso non ci sono più i cristalli Swarovski, ma potete provare anche a cercarli con Rosemontè. Quindi io utilizzerò questi nella colorazione transparent, e ce ne serviranno tre per orecchino. Ovviamente potete anche non inserirli, nel caso non vi piacciano, utilizzare ad esempio il fiocco di neve, così, semplice. Io ho deciso di cucirli, e ovviamente poi ci servirà il nostro ago, questo è un ago numero 10, ma vi consiglio il numero 12, e poi Fireline da 0,15 mm. Iniziamo! All'interno di questo video vi mostrerò come realizzare il fiocco dorato, quindi quello con le perline dorate, gli altri sono identici e precisi, cambiano soltanto i colori. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è inserire 12 perline 11-0, rocaille 11-0, sull'ago, e le portiamo alla fine del filo. Dopodiché rientriamo all'interno della prima perlina, e tiriamo il filo. Ripasso all'interno di tutta la sequenza. Allora ripasso anche, nuovamente, all'interno di due perline. Ecco qui. Prendiamo tre rocaille 11-0 sul lago, e rientriamo dal basso verso l'alto, all'interno della stessa perlina da cui esce il filo. Tiriamo il filo, e questo è il risultato. Dopodiché passiamo attraverso le due perline successive, e ripetiamo questo passaggio per tutto il giro. Questo è il risultato finale. Adesso, rientro all'interno delle due perline successive, tiro il filo, giro il tutto, e passo con l'ago all'interno di questa perlina qui, e di questa perlina qui. Ho inserito sull'ago altre tre perline 11-0, e rientro nella stessa perlina dal basso verso l'alto. Ecco qui. Questo è il risultato. Rientro nuovamente all'interno della sequenza. Giro per comodità. Passiamo attraverso le perline, e riportiamo sempre l'ago che fuoriesce dalla perlina superiore di ogni gruppo di tre. e rientriamo sempre nella perlina superiore. Tiriamo il filo, giriamo, e ripassiamo all'interno di tutta la sequenza. Questo è il risultato. Quindi dobbiamo procedere facendo questo passaggio su tutte le perline che sono rimaste. E ci vediamo quando avrò terminato. Poi dovremo inserire il rosemontè all'interno, e collegare i vari rami del fiocco di neve insieme. Questo è il risultato finale. Adesso andiamo a cucire il nostro stress all'interno del fiocco di neve. Quindi ho il filo che fuoriesce da questa perlina qui, che è la perlina centrale di questo ramo. Dovremo praticamente cucire lo stress tra questa perlina, questa perlina, questa e questa. Entrando a destra e a sinistra. Quindi infilo lo stress sull'ago, lo porto alla fine del filo, e lo vado a posizionare in maniera corretta. Ecco qui. Adesso il filo che fuoriesce praticamente da questa parte qui. Tengo fermo lo stress e rientro nella perlina superiore centrale. Proprio per centrare lo stress. Ecco qui. Adesso rientro all'interno dello stress e ripasso nella perlina sottostante dall'altro lato. Quindi il filo fuoriesciva prima da questo lato, adesso rientro da questo lato proprio per centrare lo stress. e tiro il filo. Adesso passo con l'ago attraverso le perline successive e andiamo a fare la stessa cosa con queste perline qui laterali. Allora, ora in pratica potete anche decidere di non cucire insieme i vari rami perché in questo modo credo venga più definito. Oppure il risultato sarà questo. Come vedete io ho passato il filo attraverso queste due perline per unirli e per non far muovere appunto singolarmente troppo i vari rami. Però vi faccio vedere comunque come fare nel caso vi andasse appunto di farlo. Come vedete io ho il filo che fuoriesce da questa perlina qui e vado praticamente a rientrare all'interno di queste due perline questa, questa centrale e questa. Il filo fuoriesce da questa perlina qui poi risalgo attraverso la perlina accanto passo qui poi qui e continuo in questo modo per far sì che il fiocco di neve diciamo sia più unito e i vari rami non si muovano. ecco qui ho terminato ovviamente se non vi piace l'effetto eccetera potete provare a utilizzare anche un filo trasparente anche se io mi trovo bene con il fireline ed ecco qui il risultato finale dopo aver tirato bene i fili adesso vado a congiungere due capi di filo e vado a tagliare appunto l'eccesso questo è il risultato finale adesso vado a creare gli altri fiocchi di neve e dopodiché vi farò vedere come congiungerli tutti insieme ecco qui come potete notare ho terminato tutti e tre i fiocchi di neve e adesso ne andiamo semplicemente ad unire quindi ho i tre anellini che ci serviranno li vado ad aprire e come procedo? procedo partendo dal bianco inserisco un anellino molto sottile ovviamente all'interno della rocaille che si trova alla parte superiore del nostro fiocco di neve e poi inserisco il tutto all'interno del perno dorato e chiudo con un'altra pinza ecco qui uno poi secondo anellino passo attraverso la rocaille superiore del fiocco dorato e poi attraverso la rocaille inferiore del fiocco bianco e vado a chiudere ecco qui e infine apro il terzo anellino entro all'interno della rocaille argentata superiore del fiocco argentato e nella rocaille inferiore del fiocco dorato e vado a chiudere ecco qui quindi assemblaggio super semplicissimo per i nostri orecchini fiocco di neve io li adoro sono veramente bellissimi spero che piacciano anche a voi ovviamente con lo stesso sistema potrete creare anche dei braccialetti o delle collane quindi sta semplicemente alla vostra fantasia combinare colori anche dimensioni perché no potete provare anche con perline più grandi o più piccole e nulla io vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video se non siete ancora iscritti al canale vi invito a iscrivervi al canale e vi ricordo che sul mio profilo instagram natalie savassano c'è un piccolo regalino per voi quindi se vi va seguitemi anche lì e partecipate all'estrazione dello schema con i pupazzi di neve vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito e noi ci vediamo presto con un nuovo video un bacione alla prossima ciao